Ma c'è anche un attore giurito qui, eh? Eh, sì, 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 cioè, hanno tenuto il fiato fino al momento giusto. E' arrivato anche il futuro attore, l'amico particolare di un personaggio, ed è Damiano Caruso. Buongiorno, molto abbaso. Che spettacolo, abbiamo il tempo, eh? E' arrivato Greg Avoli dalla Zomenia, quindi Andrea Garosio, e poi Domenico Pozzovivo. Damiano, non lo facciamo più, te lo prometto. E' arrivato Pozzovivo, ed è arrivato Antonio Nibali. Il team schierato sul banco è Bahrain Merida. Applausi per Bahrain Merida. Grazie a Bahrain Merida.